Mi chiamo Francesca, ho 31 anni, un marito, un figlio, un cancro, al seno, ah e ho anche un cane. Mi operano tra dieci giorni, ma per oggi non ci penso, oggi sono felice e domani, in fondo domani è un altro giorno. Tra cinque giorni mi operano, a volte penso che si sta solo lui. Poi per fortuna dentro me c'è qualcosa che mi fa pensare ad alta. Domani mi operano, oggi tutto mi fa paura, tutto sembra più grande di me. Questa è la cena con la mia famiglia prima dell'intervento. Vorrei che tutto fosse perfetto, ma si sa, non è sempre così. Due settimane fa mi hanno operato per un tumore al seno. Ieri sono arrivati i risultati. E' andato tutto bene. Oggi cucino e festeggio con la mia famiglia. Non sempre la vita ti sorride, ma stare insieme ti regala un sorriso. Sempre. E' andata bene. Ho preso la malattia in tempo. Controllati anche tu. La prevenzione ti salva la vita. E' andata bene. E' andata bene. Grazie a tutti.